ci diamo prendi? innanzitutto è interessante Sì, non è vero. Sì, sì, sì. è stato fatto noi abbiamo innamora spesso spero che ci sei ci sei siamo aperti è stata un investig singing questa è una ricordata adesso abbiamo innamorato questa è stata una ricordata non ho il fatto non è un paio Grazie a tutti 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 Grazie a tutti